Uedì, spoiler registrazione 2603, Tina smaschera perché avrebbe una donna fuori. Scoppia un caso nello studio di uomini e donne e Armando finisce al centro di accese polemiche. Nel corso della nuova registrazione del talk show Mediaset di questa domenica 26 marzo 2023, il Cavaliere Napoletano si è ritrovato a dover fare i conti con la durissima presa di posizione di Tina. L'opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi alla luce di quelli che sono i comportamenti di Armando in studio, lo ha smascherato sostenendo che avrebbe una donna fuori dallo studio. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di uomini e donne di questa domenica pomeriggio. Riportate in rete da Lorenzo Pugnaloni, raccontano che Armando si è ritrovato al centro delle polemiche in studio. Il Cavaliere Napoletano ha scelto di chiudere la sua frequentazione con una dama conosciuta nel corso delle riprese di sabato pomeriggio e, come se non bastasse, ha rifiutato anche un'altra dama che ha fatto il suo ingresso in studio nel corso della registrazione di questa domenica. Un doppio rifiuto che, ovviamente, in studio ha fatto nascere dei dubbi e dei sospetti. Soprattutto da parte di Tina che non si è fatta alcun problema a smascherare il Cavaliere Napoletano. La storica opinionista di Uomini e Donne si è detta certa del fatto che, dietro questi continui rifiuti da parte di Armando, si celerebbe una donna con la quale avrebbe una relazione fuori dallo studio del talk show Mediaset. In pratica, quindi, Tina ha messo in dubbio la sincerità di Armando nei confronti della padrona di casa e della redazione intera di Uomini e Donne. Per l'opinionista, il Cavaliere Napoletano starebbe portando avanti un doppio gioco e dietro i suoi continui rifiuti alle varie dame che chiedono di partecipare al programma per conoscerlo. Si celerebbe un'altra donna con la quale farebbe coppia fissa lontano dai riflettori mediatici. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle riprese di Uomini e Donne di questa domenica pomeriggio, Armando ha lasciato lo studio durante il confronto finale tra Gemma e Silvio. Il motivo? Silvio avrebbe detto delle parole che non sarebbero piaciute al Cavaliere Napoletano che, a quel punto, prima di dare il via all'ennesima accesa discussione in studio, ha preferito uscire dallo studio per fumarsi una sigaretta e placare la sua ira. Un gesto che, tuttavia, non è piaciuto a Gianni Sperti, l'opinionista, infatti, ha puntato il dito contro Armando lasciando intendere che sarebbe stato maleducato. Muzica a pus cu rap-ul și pentru el e de bun simță ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele tante printre tale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut pe scurt. De la omb-